Ma no, non si tratta di peso, si tratta di aver affrontato una squadra a cui vanno i meriti di aver fatto una bella partita ma io lo sapevo, lo sapevamo tutti, ce l'avevamo detti e sapevamo che avremmo trovato davanti una squadra che ha i giocatori che hanno scorsato i protagonisti del campionato si sono rinforzati con i giocatori che hanno vinto il campionato e qualcuno neanche ha giocato oggi questa è una squadra forte che ha pochi punti, che testimona il fatto che questo è un campionato difficilissimo ripeto, gli facciamo i meriti però ci prendiamo anche i meriti noi perché poi per vincere le partite e essere bravo a metterci nella durata, abbiamo sofferto in qualche occasione siamo stati bravi ad andare in vantaggio, avremmo potuto raddoppiare subito dopo e sicuramente sarebbe cambiato qualcosina e poi siamo stati bravi a stringere i denti nella ripresa e a portare a casa un risultato veramente pesante sono contento per Marcus perché poi Marcus è un giocatore che te lo ritrovi sempre dentro al campo è un giocatore intelligente che sa giocare a calcio e sa occupare gli spazi giusti quando hai la palla e quando non ce l'hai quindi sono contento per lui che è riuscito a fare questo gol e poi sapevamo che questa è una squadra tosta da affrontare perché la palla vola tanto ti aprono dando palla agli esterni e poi dagli esterni la palla viaggia subito per gli attaccanti sono batterie di attaccanti comunque con fisicità, tecnica, esperienza mezzo a campo avevano dei giocatori di qualità e le difficoltà le conoscevamo siamo stati bravi a reggere anche se a tratti abbiamo sofferto però penso che in una partita equilibrata alla fine abbiamo meritato anche di portare a casa i tre punti grazie